buongiorno a tutti allora ecco come promesso l'ultimo tutorial rispetto ai centratori di rin oggi impariamo a conoscere meglio e a montare il centratore di rin rosso allora partiamo da un presupposto anche questo come avete visto tutto il resto del kit centratori di rin è diviso sempre in tre pezzi ed è diviso sempre per colore in questo caso è tutto completamente rosso questo centratore rosso è specifico per un particolare tipo di radiografia cioè una radiografia endorale ma non periapicale questo cosa vorrà dire vorrà dire che con la radiografia che otterrò non vedrò gli apici dei denti quindi con la bitewing gli apici dei denti la fine della radice e ciò che ci sta sotto per capirci non verrà visualizzata mentre invece con il centratore blu o il centratore giallo abbiamo fatto delle endorali periapicali e qui come notate nella foto c'è ciò che si vede in una bitewing e ciò che si vede in una periapicale che sia poi anteriore col blu o posteriore col giallo esattamente cosa cambia che una è non periapicale è semplicemente un endorale quindi la bitewing le altre invece sono sì endorali ma periapicali allora anche per il rosso non abbiamo particolari difficoltà nel senso che seguo un po la logica del blu cioè con un'unica direzione e un unico metodo di montaggio riusciremo a mantenere questo sia per un lato che per l'altro cosa intendiamo per un lato per l'altro intendiamo che la bitewing va o per l'arcata superiore inferiore di destra o per l'arcata superiore inferiore di sinistra è un particolare tipo di radiografia endorale che mi permette a dentatura completa di vedere quattro denti dell'arcata superiore e contemporaneamente fino a quattro denti dell'arcata inferiore quindi otto denti in totale e viene fatta appunto o nel lato destro o nel lato sinistro allora anche qui partiamo sempre con il nostro primo pezzettino quindi andiamo a prendere come al solito il supporto della placca poi prenderemo il sostegno della pellicola e poi prenderemo l'anello collimatore allora per il centratore rosso vedete che c'è questa parte sempre comunque fatta come se fosse una l e questa parte è dove poi si infilerà all'interno quindi qua la pellicola che avremo scelto potrebbe variare leggermente la forma di questa zona rispetto al tipo di supporto che si voglia utilizzare quindi sarà diverso per una pellicola analogica piuttosto che per un fosforo sensore ai fosfori piuttosto che per una radio videografia comunque il succo sarà uguale allora questa parte vedete che ha questa specie di c diciamo così come se fosse un un angolino risvoltato sia di qua che di qua deve essere posta questo immaginiamo sia un cavo orale deve essere posta verso il centro della bocca questa zona si appoggia ai denti quindi prima regola teniamo questa specie di risvoltino verso la lingua per capirci quindi verso il centro della lingua le altre parti appoggeranno sui denti e qui abbiamo i nostri fori a cui ovviamente come al solito andremo ad applicare il secondo pezzetto che compone il centratore di rin rosso quindi spingo e lo vado ad incastrare l'anello collimatore sempre in un senso o nell'altro vado a vedere che sarà come al solito ben centrato quindi spingo e controllo eccomi qua di essere perfettamente centrata qui immaginando che ci sia la pellicola e questa sia la bocca del paziente metterà fermo con il morso questa parte e da questo lato arriverà il tubo radiogeno come al solito ovviamente sempre il più possibile in prossimità del mio anello collimatore questo montaggio che è l'unico che terremo va bene per la zona destra del corpo quindi cosa intendiamo arcata superiore numero 1 e arcata inferiore di destra che è la numero 4 quindi questo montaggio va bene per zona 1 e zona 4 dato che abbiamo detto che prende contemporaneamente sia la zona superiore che inferiore questo è diciamo così il montaggio per il lato destro della bocca del cavo orale ma se il dottore avesse bisogno di fare invece una bite wing nella zona sinistra quindi quadrante 2 e contemporaneamente quadrante 3 cosa dobbiamo fare esattamente nulla di diverso cioè sempre partendo con questo montaggio banalmente ribaltandolo nel lato sinistro andrà bene per fare questa particolare tipo di radiografia quindi una bite wing nel lato sinistro ve lo faccio rivedere smontandolo una volta allora noi partiamo sempre quindi con la prima parte con queste c ipotizzando che questo sia il cavo orale rivolte all'interno come se ci qua ci fosse la lingua questa zona appoggerà sui denti andiamo a mettere il nostro sostegno della pellicola e andiamo a mettere il centratore nell'ultima sua parte che è appunto l'anello collimatore parte destra lato destro se invece volessimo darlo al dottore per la parte sinistra sempre con questo montaggio ma proprio per semplificarvi la vita lo gireremo vedete che adesso io sto lavorando a destra lo ribalterò nel lato sinistro quindi sinistro e destro questo è l'ultimo centratore di rin che avevo a disposizione per potervi far vedere vi invito ad iscrivervi al canale vi invito se volete ad attivare la campanella in modo da non perdere neanche uno dei prossimi video che man mano realizzerò e vi auguro buona serata a 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